Primo tempo della partita Warriors contro Paris Saint-Gennar, parziale di 1-1 l'arbitro Ciccio Consolati, il malese, commento di Luca Salvi, il derby importantissimo, ricordiamo gli assenti, Sannino, portiere del Paris Saint-Gennar e ancora Corrado Lanza, valla per Chiarello. Chiarello è disturbato da Malfitano, Chiarello cerca il numero, su Padovani, Chiarello ancora, tiro, malissimo, sono da dimenticare, per Malfitano, che numero, e che gol, che gol di Malfitano, incredibile, che rete. Commento live, Malfitano, che devo dire? Dici qualcosa, non lo so, gran gol, qualcosa, qui inquadrano Savino, incredibile. La palla per i Warriors, Chiarello. Warrior. Ma come cazzo chiamano? Warrior. Warrior, Warrior. Ma tu lo sai quanto in inglese? What? What? Mi apparo con la letteratura. Come siamo, Chiarello? Palla per Piscopo, ancora, Padovani ancora, in mezzo ma non trova nessuno, tiro del secondo, Padovani, sempre lui, l'asso di questa squadra, che giocatore, sa giocare col destro e col sinistro, è completo. Cosa ne pensi di Padovani, è un commento di parte, direi? E' San Gennaro, è per San Gennaro la palla, Piscopo, avanti per nessuno, per Padovani. Piscopo, entra bene il numero 10, da fuori Padovani, cantiamo la battuta per i Warriors, stamente in porta, sarà angolo per i Warriors. Sì, per. Cerca una grande giocata, Cantermo, batte subito Padovani, Alfitano sbaglia tutto qui. Chiarello, avanti subito, cerca Cantermo ancora, ma non va. Chiarello, ancora Warrior, avanti subito, ma trova un giocatore del Padovani, Alfitano, parla ancora loro, Piscopo. Cambio, entro Pesce Napolitano, escono Malfitano, è il numero 10, la mente è in porta, non trova nessuno. Uno di subito per 7, che ha il numero, ma Padovani chiude bene, parla per i Warriors. Avanti c'è la Chiarello, Cantermo, dietro c'era solo Chiarello, prende ancora la palla, Sepe, in mezzo, Chiarello, si capisce cosa volesse fare. Padovani, stai un po' più dietro. Ancora Chiarello, subito in mezzo, ma Piscopo si impone, il tiro a volo. Chiarello. Che giocatore è Chiarello? Padovani. Sbaglia tutto, Cantelmo, anticipato, Chiarello da Padovani, un ottimo Padovani oggi. Numero di Chiarello. Chiude bene Pesce. Chiarello ancora la battuta. Ma Cantelmo rimane fermo a guardare il pallone sulle fuori. Piscopo per Pesce, Sepe. Guarda per i Warriors. Cantelmo, cerca Chiarello, ma recupera la palla Padovani. Piscopo. Padovani. Non farlo mai più, frate, mai più. Piscopo, alla battuta. Uno che tira, vai, uno che tira. Tira a porta. Tira, tira, Mirko. Tiro. Vedi a porta. Di poco sopra la travesta. Tira, un panino. Qui rischia un po' con il portiere dei Warriors. Padovani. Tira. Pesce, sbagliata tutto. Regala la palla ai Warriors, che possono ripartire. Con Sepe. Ma Padovani ancora, che partita la sua? Ma si è cancellato quello di prima. Siamo qui alla partita derby dello Sbordone League. In partenale modo siamo qui contro. Prima contro seconda è, attenzione tutti, è soltanto di 3 a 1, ma adesso un momento straordinario, il rigore per il Paris Saint-Germain. A battere sarà Padovani. Padovani. Pesce, sbagliata tutto. Gran gol di Marco Pesce, un ottimo rigore. Risultato adesso è di 4 a 1. Chiarello ecco, non riescono a sbloccarsi. Attenzione. Chiarello! Alla battuta, ma un grande napoletano mette in angolo. Attenzione. Vediamo adesso Savinovic. Attenzione. Cantelmo, il passaggio è per Chiarello. Chiarello, attenzione a Chiarello. Attenzione a Chiarello. Il 3-0 hanno pensato. Lo te l'avete a comprare io. Lo te l'avete a comprare io. Attenzione. Quanto stanno qua dintro adesso? Ah, Vicente e il Paris Saint-Germain. Allo del due te li posto un'netti. C'è qualcosa che devo sapere su questo stagio. Attenzione amici miei. Chiarello ha la battuta. Un'ottima punizione. Chiarello si prepara. Franci e il massimo due. Due, Max. Massimo due. Massimo due, Macco. Levati. Tre di due. Non puoi stare sull'uno. No, Macco. Eh! Secondo tempo del derby del Biegno. Warrior contro Paris Saint-Germain. Inquadriamo i due grandi e la Ternana. Il suo ritorno. Anche il suo. I campioni. E anche Ciccio. Punizione per il Paris Saint-Germain. In due. Fittano non appoggia. Si vede. Il 10. Fanno rubare palla. Sempre. Solo lui. Fanno i contropiede. Mondo. Vai domani. Che commento, dai. Ancora Napolitano. So, Malfitano. Scusa il numero. Solve tutto. Numero 10. Malfitano ancora. Vediamo un vattore di due reti pazzesche. Pado. Pado. Quel palo. Numero 10. Cos'è il numero 10? Il co? Cariello. Messi. Ah, è il nostro numero 10. Napolitano, Daniele. Napolitano? Napolitano. E il capitano com'era? Napolitano, invece? Napolitano, sì. Napolitano, la sfrazione. Sono lì, sì. No, sono lì, sì. Il numero 6 è stato. Il numero 6 è Sposito. Ah, è Sposito. Io chiamavo Napolitano. Non so se c'è un masciuto. Ancora Chiariello! Avanti, Malfitano! No, non so. Non so. Non so. Non so. Non so. Non so. Corrior, Chiariello. Top player, tiro! Non va. Non ne pensi questa partita? Vi scopo. È facile. Facile. Non è tanto. Ancora Sposito, Malfitano. Femmennotocchi, Alfo, Gida, Alfo! Sepe può ripartire. Cerca il numero, ma entra bene Marco Pesce. Chiariello recupera la palla. Solo Sepe. Vuole fare tutto da solo. Sepe. L'appoggia su Chiariello. Ultimo Marco Pesce. Ancora lui. Tiene in gioco. Non va. Ancora qui. Secondo tempo. Warrior contro Paris Saint-Gennaro. È la terza volta che faccio il video. Ma sempre per problemi relativi. Telefono. Telecamera anche. Vabbè. Tutto. Una volta sveglia. Vabbè. Palla per i Warrior. Numero 10. Chiarello. Ma entra bene. Esposito. Al volo. Il tiro. Esso. Esso. Guarda. Stai facendo un assist. Beh. Giocano subito verso Napoletano. Anticipato. Esposito. Chiama il cambio nel frattempo. Entra Piscopo. Esce Pesce. Torre di una buona prestazione. Torre di una buona prestazione. Torre di una buona prestazione. C'è anche Esposito. Napoletano. E' un'altra buona prestazione. Chiarillo sbagliano tutto e la musica ripartono allora fra di San Gennaro ma domani mi aiutano con questa faccima delle croniche Chiarillo numero napoletano ancora numero cantelmo biscopo copre musico a porta in sostituzione del big portiere San Diego guadagni a calcio d'angolo cantelmo io attenzione Chiarillo il tiro musico ancora lui la sua altezza Terca il tiro al volo ma sbaglia tutto ancora in gioco palleggia sai fare questo se ne fa giochi di prestigio che non concludono niente Padoani mio fratello attenzione avvicinando Chiammi se non sentono cazzo ma al fitano deve battere proprio lui dietro è il biscopo la botta il biscopo si stanno spogliando nel frattempo il Borussia Dortmund andiamo sullo sfondo della telecronica attenzione Pepe detto anche Mini Massi sbaglia Monteforte rinvia Pepe come può cantelmo super napolitano a difesa Ponteforte interviene Ponteforte che ha detto? Ponteforte Ponteforte piccolo Massi Pane nella situazione il cross Padoani con la schiena sepe Paris Angelman molto offensivo attenzione con la spalla 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 ecco lì Savino nel frattempo c'è la rete incredibile Mirko Piscopo Mirko Piscopo ringrazio all'arco che ha fatto l'assist che gol traversa gol ragazzi incredibile lo sfondo vediamo Savino e i giocatori del Borussia Dortmund che si preparano alla partita attenzione è chiaro batterà lui la botta direttamente fuori ha colpito un Colombo ha fatto valere 6 cm Padoani dietro per Malfitano c'è ancora Padovani domani 1-2 è stupendo e c'è la rete solo 3 per Padovani che gol che gol che combinazione due giocatori chiari del Paris San Gennaro Napolitano e Padovani 4 minuti Chiarello subito in avanti numero 10 motore tieni la palla in campo fondo secondo Carlo quanto è da spogliare? Chiarello il top player del biegno ancora lui troppo una squadra spenta la loro cerca un altro numero ma il titano è solo Padovani San Gennaro ormai i warrior sembrano essersi dispenti tiro chiama il cambio ciccio consolati da Barletta che che non 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 non